Siamo alle porte della festività di Ogni Santi, l'1 e il 2 novembre, il periodo dell'anno tradizionalmente dedicato al maggiore afflusso di persone verso i cimiteri, verso le visite ai propri cari. Siamo venuti al cimitero centrale San Decenzio di Pesaro per vedere come si presenta il cimitero alla vigilia di questo appuntamento annuale. Cimitero di Pesaro che da anni ha le prese con diverse problematiche. Dal 2017 in poi si è creata una situazione particolare, soprattutto nella parte nuova, quella del padiglione dei Fiori, un padiglione dove ci sono stati a lungo dei periodi di transenne per il cedimento di alcuni pannelli strutturali, per delle infiltrazioni, lavori posticipati che sono finalmente partiti in questo mese di ottobre, partiti ma subito interrotti. Perché? Perché si è aspettato questo tipo di festività, per poi entrare nel clou con l'intervento del comune da 400 mila euro. Intanto però in queste giornate del primo e del 2 di novembre il cimitero, anche nel padiglione dei Fiori, si presenterà con tutti i varchi d'accesso aperti a ogni tomba di ogni corridoio. Un cimitero come sempre in ordine, come tutti i 29 cimiteri che gestiamo su 5 comuni della vallata del Foglia. Ci sono in continuazione lavori per cercare di migliorare ulteriormente la fruibilità. Il padiglione dei Fiori, che è stato oggetto di un contenzioso tra il comune e la ditta che lo realizzò al tempo, oggi è fruibile. Sono stati messi in sicurezza tutti gli accessi per poter dare la possibilità ai parenti di visitare le tombe dei loro congiunti. Subito dopo questo periodo di maggior afflusso, il comune ci ha già fatto sapere che inizierà i lavori veri e propri di ristrutturazione, che dovrebbero risolvere in maniera radicale le problematiche che ci sono avuti negli ultimi anni e che purtroppo noi come Aspes non eravamo in grado di affrontare, in quanto non spetta a noi la manutenzione straordinaria, ma solo la manutenzione ordinaria e la gestione dei cimiteri. Luca Pierici ha dunque illustrato lo stato attuale di salute del cimitero centrale San Decenzio, sia della parte vecchia che di quella nuova, parte nuova, questa adiacente al padiglione dei Fiori, dove recentemente negli ultimi sei mesi è stato realizzato un ultimo settore dedicato alla sepoltura. Però cominciano davvero a limitarsi gli spazi di ulteriore allargamento, il rischio di saturazione comincia ad essere un rischio concreto e sono allo studio diverse ipotesi per contemplare le esigenze della cittadinanza nei servizi funebri. Purtroppo l'area cimiteriale del centrale comincia ad essere satura, sono ormai pressoché esauriti gli spazi su cui poter fare nuove edificazioni di loculi. Fino ad oggi abbiamo tamponato con tumulazioni provvisorie sui cimiteri periferici, Candelara, Trebbiantico, Villa Fastigi. Abbiamo ancora qualche anno di autonomia rispetto anche al centrale, anche perché alle tumulazioni classiche si sta sostituendo pian piano, almeno all'incirca sul 40% nei cimiteri cittadini, la tumulazione attraverso la cremazione. Stanno scadendo anche le concessioni 35-30ennali che sono partite 30-35 anni fa, per cui alcuni loculi si stanno liberando. Stiamo cercando nella gestione di non creare problemi agli utenti e alla cittadinanza.